Il teatro amatoriale, come poche altre attività educative, ha il pregio di essere un'autentica scuola di vita che insegna l'arte della comunicazione, favorisce la socializzazione, mantiene viva la tradizione, soprattutto quando esprime le peculiarità identificative di un determinato territorio. Non è quindi importante una eccessa specializzazione in chilopratica, quanto piuttosto una grande passione e una conseguente dedizione, perché sia il grande lavoro nella preparazione che la gratificazione del pubblico dopo l'esibizione, sono momenti di autentico divertimento. Da Treviso una testimonianza esemplare. La compagnia Comedianti di marca si è costituita nel 2013, recentemente, e si propone di rappresentare opere brillanti, commedie brillanti, possibilmente in dialetto, con attenzione alla realtà veneta. Il repertorio della compagnia è formato al momento da una commedia che si chiama I pellegrini di Marostega, di Libero Pilotto, e ha la compagnia in preparazione una nuova commedia che si chiama ben portante, sposerebbe affettuosa, di Emilio Caglieri. La compagnia è formata da 15 persone di varia formazione teatrale, alcuni hanno un'esperienza pluriannale, altri si sono avvicinati al mondo delle scene teatrali attraverso dei corsi di teatro, ma tutti portano entusiasmo e allegria. La compagnia si propone appunto di divertire e cerca di portare a termine questo compito attraverso spettacoli allegri che non deludano il pubblico, ovviamente con un'attenzione alla qualità di quanto viene rappresentato. Comedianti di marca. Nel teatro sono approdato circa 50 anni fa, nella compagnia che si era costituita allora I Giovani, diretta da Paolo Trevisi, che aveva tra l'altro tra i suoi componenti anziani il Gino Cavalieri di Nota Memoria, che era una delle colonne insieme al baseggio del Teatro Veneto, fra le due guerre. Sono nato come attore, ho debutato nella parte di Nicoletto nel Todero Brontolon, poi ho fatto altri personaggi fino a che circa 30 anni fa sono approdati alla regia e ho sempre cercato di privilegiare un filone che è quello del teatro dialettale anche se non originario veneto, però con la caratteristica che tutti i lavori erano e saranno e sono stati improntati ad una realtà veneta. Ho lavorato con la Tarvisi un teatro, ho lavorato con i giovani e poi sono approdato insieme a Stefano ai commedianti di marca questa nuova realtà che è nata appena poco più di un anno fa ma che spero possa dare dei risultati notevoli e che si possa affermare bene nel panorama del Teatro Veneto. Ma per cosa non hai da dire niente a quell'altro? Sì cara, perché qui oggi è un der Teufel. Cosa zelo? Un der Teufel che vuol dire un diavolo. Oh Gesù Maria, cosa che te mi dici? Dunque, te stai tre mesi che te si sta a Roma da solo, ti va imparare la lingua tedesca? Oddio, imparata, imparata, proprio no, però un pochino... Mi fa praticamente la parte di quel signore, capo di questa comitiva, di questi pellegrini che va a Roma e con la scusa di essere a Roma sta là, poi quando manda a casa la moglie con gli altri si sofferma e lì c'ha un'avventura con una straniera. Tornato a casa, tutto contento e felice, però c'è un piccolo problema che questa straniera, dato che io avevo promesso di sposarla, mi viene a trovare lì a Marostica, dove io abito e là succede il patatrac perché la moglie, la figlia e tutti quanti vengono a sapere e là vi lascio immaginare cosa succede. Vieni qua, mia bea tedescona! Sono veneto, sono trevigiano e mi piace recitare in dialetto. Sperando perlomeno di divertire tutti quelli che mi vengono a sentire. È una passione che ho avuto da sempre, ma che ho realizzato solamente da pochi anni. Prima due commedie con la Tervisi Un Teatro e adesso con Comedianti di Marca. Sto crescendo come quantità, diciamo, di personaggio. Mi sono divertita molto a fare i pellegrini di Marostica perché faccio un personaggio che mi piace, una cameriera, poco studiata, ma molto divertente. Mi piace molto cantare, infatti all'inizio faccio un pezzettino in cui canto e mi sono divertita a fare questo personaggio. Quello del teatro è una cosa che ho sempre avuto dentro, perché prima insegnavo agli elementari e ho sempre fatto teatro a scuola. Cioè quello del teatro per me era un modo per esprimere e per aiutare ad esprimere. Perciò io ora mi sto divertendo, mi piace e quando vengo alle prove non vedo l'ora di venire alle prove perché proprio sono due sere alla settimana in cui veramente mi diverto e mi dimentico. Tutti i miei problemi passano tutti dietro alle spalle. Ho cominciato un po' l'esperienza di teatro un pochino per caso. Sono friulana, da dieci anni però che abito qui ormai a Treviso perché ho fatto l'università qui. Nel tempo libero ho deciso di intraprendere un corso con l'Arci di Treviso appunto e di teatro e da lì è partita la mia passione. Il palco è la mia casa, mi piace proprio tanto ed è un luogo in cui io mi sento proprio a mio agio e dove mi sento proprio bene. Successivamente appunto a questa serie di corsi ho conosciuto i fantastici comedianti di marca e me ne sono completamente innamorata. Un'esperienza per me nuova e molto particolare appunto perché essendo friulana quindi con un dialetto completamente diverso, ho voluto un po' mettermi in gioco con il dialetto veneto e spero di avercela un po' fatta. Ma non lo spero, però adesso ti ci attra, te te vesti e te va a farti un giro, anche tra poco sarà qua. Vado, vado. Ho sempre avuto la passione di tutto ciò che riguarda la recitazione cinema-teatro e diciamo che ho iniziato un po' così in maniera abbastanza timorosa e timida intorno al 2006-2007, quindi ho girato un po' diverse compagnie e piano piano insomma sono entrato sempre più dentro in questo mondo affascinante, fantastico, divertente e insomma che ti fa anche diciamo così rilassare, un tempo che dedichi veramente a te stesso. e mi sono avvicinato a questa compagnia perché in realtà cercavano un napoletano siccome io sono di origine campane e allora mi trovo appunto, sono approdato ai comiglienti di marca. Sono contento, mi piace, mi diverto e spero di continuare. Era il mio sogno nel cassetto, quello di far teatro e finalmente a questa età sono riuscita ad avere questa prima esperienza di far parte di una compagnia e avere questa parte in cui faccio filomena che sono la sorella di Felicita. Mi sono divertita e spero di andare avanti bene, di imparare insomma tutto quello che c'è ancora da imparare e che è molto per me. Vengo dalle rivocazioni storiche e sono capitata qui, sono molto contenta che il regista mi abbia scelto. Faccio la parte di Betta che è una ragazza un po' svanita, un po' chettina e che vorrebbe attaccare un po' bottone con gli uomini ma alla fine non ci riesce. Sono la figlia di una donna che è vedova e anche lei ha un po' le smani addosso come me. Faccio praticamente una caratterizzazione. Ma no, se le solite insegnazioni sono le lingue pettiglie. Ah sì, hai ragazzo, è proprio delle brutte tiglie che quando ti capita preoccupa. Sono il giovane della compagnia, 80 anni compiuti, però dentro sono sempre giovane e sono contento di fare teatro. Mi occupo molto anche di poesia, ma il teatro è quello che mi completa di più diciamo in un certo senso. E poi mi piace perché io sono mai stato definito il caratterista grazie all'intuizione del nostro regista e adattatore, a proposito, apro una parentesi, dobbiamo dire come adattatore il nostro regista Roberto Zannolli è veramente un portento. Dunque, detto questo, volevo dire cosa? Ah sì, che io a volte mi trovo un po' in barazzo e allora dico, come dicono i tedeschi, mi viene un po' di scaresen, diciamo. Queste sono un po' le mie parti. Nella commedia appunto precedente, quella ai pederini di Marostega, io sono il sordastro, sono colui che capisce sempre pan per polenta e da qui nascono tutte le varie gaggers e poi le varie anche invenzioni che qualche volta il regista me le lascia, qualche volta me le toglie, ma insomma nel compenso sono contento. È veramente un'esperienza che mi ringiovanisce di giorno in giorno. Morte i pellegrini! No, la morte i pellegrini! Ma perché no? Devo avere torte ai pellegrini! Io particolarmente privilegio il teatro, diciamo, brillante, con venature comiche forzate anche, quindi qualche volta anche con delle derive farzesche, perché ritengo che a un certo punto quando si chiede a degli spettatori di spendere quei 7-8 euro per il biglietto e di passare la serata del sabato o il pomeriggio della domenica a teatro, la gente voglia anche rilassarsi, voglia divertirsi, non voglia assolutamente crearsi ulteriori problemi o verificare a teatro delle problematiche che tutto sommato magari li riguardano nel privato, ma che nel momento in cui sono pubblico vogliono dimenticarle e pensare all'altro. Tanti fiorini! No, nix! Ne fiorini, ne dire, e ne tratti! Ah no, tu ne portai nix! No, nix! Ho, 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 ho! Allora cosa vuoi dare tu a tua lori? Oh, al massimo! Doqu'il desi arei dei malotti!